Ciao siamo in Frozen Crown, welcome to this video to our first Q&A Q? Q&A Q che vuol dire? Q Q C'è Q Q di quadro Sì Ok, provo eh Hi, we are Frozen Crown, welcome to our first Q&A Ci sta, ci sta Com'era? No, vai tu Hi, we are Frozen Crown, welcome to our first Q&A Hi, we are Frozen Crown and this is... Riffle 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 What can we expect from Winterbane? Well man, if you meant expect, this is what you can expect from our new album Riffle So don't forget to wait for the video reading taglia dai no diciamo che non me lo aspettavo però è andata così nel senso oddio è una domanda troppo difficile la melodia anche la geometria prendo una scala e la scompongo la metto in orizzontale nella tastiera mi diverto i soli che ho composto per questo album li ho pensati pensando a cose che ho fatto a scuola molto cute italiana? assolutamente sì fresca assolutamente fresca ma tu non fai il no non sono così italiano allora comunque è bellissima questa inquadratura mi piace molto se veramente ne esci molto molto bene devo dire proprio grazie se lo è stato come ho pensato per tante persone è stato un grosso anello di congiunzione negli anni negli decenni però sicuramente sì lui suona un po' meglio ma diciamo che è una simpatica persona l'ho conosciuto undici anni fa non mi ha riconosciuto ma io sì ed è veramente una persona molto alla mano grazie a tutti 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 in la tua stile, in la tua musica, in la tua musica. Per la produzione, questa volta abbiamo deciso di lavorare con molti di lettori di vocale, per dare più potere a le songs ma che si possono essere naturalmente. Abbiamo lavorato molto sui le song pre-produzione per trovare il perfetto tuning, il perfetto per ogni song, per dare la propria! Contest di bellezza! Poi il Tadula è meglio! Do you recruit your musicians at beauty contest? Ah, yes, yes. I'm Miss Italia, this is Miss Friuli, Miss Bassa Friulana, Miss. But I'm just a Sith Lord. You know, I made many evil things in my life and that left me God, and did it all. But luckily my two new Padawans are going to bring balance again in a force. Early 18, dai stai dicendo delle c***e. Diciamo che le avevo pensate già da prima perché Fede mi ha scritto, mi ha mandato il primo riff che non ne avevo ancora 18 forse. E quindi sì, la prima idea concettuale, la prima cellula che tra l'altro inizierà il nuovo disco sarà... è uscita dalla mia mente quando non avevo ancora 18 anni, quindi... Compliments, complimenta, Fede so perfectly. No, ma cosa vuol dire complimenti? Ah, beh, perché tipo abbiamo stili diversi. So, compliments. Beh, se è complementare... beh, sì. Ma... non so come commentare sta cosa perché a me le domande difficili. A lot of positive vibes, a lot of energy. We literally never been so happy and so productive. Everything is going smoothly, you know, the new guys really want to be part of this and this is awesome. They also added a lot of dynamic to our sound. I'm really stoked for you to listen to Winterbane and to listen to what they actually added to Frozen Crown. What? Oh, thanks for asking. This t-shirt is actually a Be The Wolf t-shirt. We just released a new album called Torino and you should check it out right now. Tied together. Yeah. Can you repeat, please? Sorry. Tied. You guys already play so tight together. Yeah. Yeah. Thank you for so much. So for me I had a very short session on my expedition. precedentemente, e c'è anche molto feeling, è una cosa che è incredibile, io non pensavo di avere questo feeling immediato così con delle persone in pochissimo tempo, molto poco tempo ed è molto divertente, veramente. No, no, abbiamo solo fatto feste, molte feste, veramente festazza, però no, a parte una singola volta, abbiamo suonato un brano insieme dal vivo ed è stato veramente divertente e commovente, non ricordo dove e quando, ma è stato davvero, ho ancora ricordo indirebile nel mio cuore, mai suonato insieme, è stato veramente un momento meraviglioso, mi ricordo anche la cover, ma non ve la dirò. Gli ultimi film che avete visto? Dei Lear, essi vivono. Non so se posso dirlo, Giorgio Rabbit. Ecco, questo sarà tagliato. Non me lo ricordo. Sì. Io credo, Fight Club l'ho molto amato. Cioè, c'è, vabbè. Cosa, cosa devo dire? È un film nuovo comunque. Eh no, posso dirlo meglio? Sì, ripeto, dai. Io ho visto Fight Club e lo so che non è un film nuovo, non l'avevo mai visto e l'ho veramente apprezzato. Mi ci sono rivista molto. Ah, è molto bene. Ma pensa un secondo, quello in un film qualsiasi. L'ultimo anche storia? Eilender, non so. Il Signore degli Anelli. Eh no, aspetta. Tuoi storie, non lo so. Niente, niente. Il 2000. Proprio di cioccolato. La ricerca di neve. Bianca neve e i sette nani. La ricerca di neve e i sette nani, non lo so. La ricerca di neve e i sette nani, non lo so. Ma la ricerca di neve e i sette nani, non lo so. per esempio, in il nostro ultimo video, in la parte dove toglie la guitarra e vengo in la sala di riempire dicendo che ho una nuova canzone Hi ragazzi, ho scritto una nuova canzone I'm looking forward to make you listen to it because it's amazing! It came out from me so naturally because it was a thing I experienced too, too many times in my life and obviously that it's a job, just sing something over it It's one of my nightmare sentences I still dream it at night with terror Chile, Spagna Si Our producer is already the biggest in the world Molto bene Federico No, seriously, this question really makes me upset a little You know, the reason why you're asking this is simply because you don't know Andrea Fusini and what he did in the past 20 years, I guess You know, he's never been into the classic metal, power metal scene but he really produced a ton of albums in the metalcore and post-hardcore scene mostly He worked with Rise Records, Fearless Records and a lot of other huge labels He also worked with a lot of mainstream Italian acts So just because you don't know him because it's not, you know, a very well-known name In the European metal scene, that doesn't mean it's not big, you know You know, we love the way our music sounds with his production and we would never change him We couldn't even imagine our music without him He was absolutely willing, sorry I know many young bands think that working with a professional that actually work with the biggest names in the scene, you know necessarily make their music better is necessarily going to make them go big but that's not true Second of me, it's all I mean, you have only the beautiful hair and then you can enter Yes It's true Having beautiful hair is definitely a parameter we consider more than everything Yes I'm worth it We're also worth it Thank you Thank you Thank you Because the most beautiful thing you do now I'm sorry I'm sure that I'm at 7.30 and I have an effort Yeah And this will be in the video Yes, it's true What do we do? What do you think? Why yes It's perfect It's perfect You're perfect You're perfect What do you think? People are just being unique which is generally That's really being instituted Can you do that away? Harr Sh Ice